Gli eventi di questo tipo sono sicuramente di importanza centrale, di importanza peculiare. Io ritengo che sia assolutamente lodevole questa volontà di Google di incontrare, incontrare non soltanto le università, ma tramite l'università, incontrare gli studenti, incontrare i giovani per contribuire a formare la consapevolezza nella rete. In particolare il tema di cui ci occupiamo qui all'Università di Salerno, cioè l'uso e l'abuso della rete da parte dei minori, secondo me è un momento fondamentale nella misura in cui in qualche modo il filo conduttore di questo nostro dibattito odierno è quello per cui libertà non vuol dire assenza di responsabilità, ma anzi la libertà, l'esaltazione delle libertà che in qualche modo, di cui Google e in generale i motori di ricerca sono uno dei maggiori protagonisti, implica un incremento addirittura del profilo responsabilistico. E per molti aspetti la nostra riflessione si soffrona proprio su questo, cioè che se la rete rappresenta un amplificatore delle opportunità e degli strumenti di conoscenza può costituire in molte occasioni anche un amplificatore delle debolezze e quindi in qualche modo il minore, ma penso, oggi noi ci occupiamo del minore, ma potremmo anche parlare, che ne so, degli anziani, sono più esposti, grazie anche alla rete, a forme di possibile disagio, forme di possibile attacco. E attenzione, questi attacchi possono andare dal cyberbullismo, che è appunto un attacco che proviene dall'esterno o da altri, ma in qualche modo i pericoli in cui si espongono questi soggetti deboli sono anche indotti da un uso non consapevole della rete. Di conseguenza tutto il nostro dibattito, tutto il nostro discorso, e queste giornate secondo me sono centrali da questo punto di vista, contribuiscono a esaltare il momento della consapevolezza, dell'uso consapevole e cosciente di questi strumenti. In una logica peculiare, questa riflessione non può essere fatta soltanto dai giuristi, soltanto dai sociologi, soltanto dal mondo della politica, ma è necessariamente un dialogo interdisciplinare. Ecco perché la struttura di queste giornate, di incontri di questo tipo, secondo me è particolarmente importante nel momento in cui stimola il dibattito, il dialogo tra saperi differenti. Il giurista da solo, il legislatore da solo non ce la può fare, perché le regole che finisce per dettare sono regole che o sono già datate quando vengono emanate, o sono regole che riescono a rimanere vigenti per pochi giorni, regole con una vita assolutamente brevissima. Ecco perché è decisivo il discorso giuridico, ma al discorso giuridico vanno accompagnati gli altri saperi che incidano sullo sviluppo e la consapevolezza di un'educazione generalizzata all'utilizzo di questi strumenti.